Con l'ingegnere Giovene, direttore dei lavori, facciamo il punto della situazione attuale in via Casamen, nelle zone limitrofe. Siamo qui questa mattina per tentare di capire quanto tempo ancora occorre, credo poco, per poter riaprire, ridare la fruibilità ai cittadini che possono per ritornare nelle loro case. Vero ingegnere? Sì, diciamo che siamo quasi alla fine, manca ancora qualche giornata per il completamento di alcune attività. Riguardano questi fabbricati qua giù, la zona sopra è già stata messa tutta in sicurezza. Come dicevo anche prima, nell'ambito delle economie dell'appalto stiamo cercando anche di rendere sicure delle stradine limitrofe e quindi il motivo per il quale c'è stato qualche slittamento sulla scaletta. È bello vedere anche la volontà di voler aprire al più presto, seguendo anche quelle che sono state le sollecitazioni del Sindaco che ci diceva di avervi chiesto che entro fine anno la situazione dovrebbe essere cosistemata. Assolutamente. L'impegno mio col Sindaco era di riaprire la strada, di consentire la riapertura entro Natale. Diciamo che data alcune giornate di pioggia che non ci hanno permesso di lavorare, altre giornate dove ci siamo dedicati a fare altri interventi sulle strade limitrofe, chiaramente andremo a fine anno, però entro fine anno riusciremo tranquillamente a riaprirla e consentire appunto il ripristino della normalità, del passaggio sia pedonale che carabile della strada. Ovviamente questo significa rivedere gente che può entrare in casa, ma anche chi deve fare i conti anche con i lavori di ristrutturazione da fare. Assolutamente, assolutamente sì perché ci sono abitazioni che già da oggi possono essere abitate, quindi semplicemente riprendo la strada ci sono famiglie che possono rientrare nelle proprie abitazioni e chiaramente altre famiglie che possono cominciare ad approntare gli interventi di ristrutturazione, di consolidamento previsti dalle situazioni di pericolo legate alle proprie abitazioni. Grazie! Grazie!